Buonasera a tutti, grazie a chi ha portato fino a questo momento le testimonianze della storia del terremoto. Richietti è ingrassato? Ma cercate di capirlo, ieri a Padova gli dicevo, no non sono grasso, potete sì o no ci sono grasso? Stasera si scarica su di me, va benissimo, serve anche questo. Allora, piccola pausa organizzativa.